Geometria verticale Geometria verticale Il primo urlo sarà scandito dalle atlete nel pre partita e la vincitrice è Anna Zerbato! Non è no! Vai male! Uno, due, tre... Argenti, due cose, direttamente tristose! La storia siamo noi, nessuno si senta offeso Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo La storia siamo noi, attenzione Nessuno si senta escluso La storia siamo noi Il secondo urlo sarà scandito ad inizio partita e durante il time out E la vincitrice è Francesca Dalla Pozza Noi siamo... Ordine! L'appartenenza Non è un insieme casuale di persone Non hai consenso a un'apparente aggregazione L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé L'appartenenza è un'esigenza che si avverte a poco a poco Si fa più forte alla presenza di un nemico Di un obiettivo O di uno scopo E' quella forza che prepara il grande salto recisivo Che ferma i fiumi, sposta i monti Con lo svancio di quei magici momenti In cui ti senti ancora vivo Sarei certo di cambiare la mia vita Se potessi cominciare A dire noi Sarebbe impossibile Sarebbe Grazie a tutti.